Ben trovati a Status Don, l'approfondimento settimanale dedicato al mondo femminile, il faccia a faccia che permette alle nostre ospiti di condividere con noi le loro passioni civili, sociali e culturali. Come avete visto in sovraimpressione, l'hashtag di questa settimana è dedicato all'opera lirica, ma prima di presentarvi la nostra ospite, guardiamo insieme la clip che abbiamo preparato per voi. A dopo! La reazione della gente che vede l'opera per la prima volta è molto drammatica, o l'amano o la detestano. E se l'amano, l'amano per sempre, altrimenti impareranno ad apprezzarla, ma non la sentiranno mai veramente. Oh, oh. A presto. A presto. Le è piaciuta, sì, l'opera, cara. Mi si sono aggrovigliate le budella. Cosa? Ha detto che le è piaciuta tanto perché era molto bella. Ah, sì. Le è piaciuta. La scena che avete appena visto è tratta dal film Pretty Woman che tutti avete sicuramente riconosciuto di Gary Marshall del 1990 ed è la scena in cui l'affascinante Richard Gere porta Julia Roberts a vedere per la prima volta la traviata al teatro dell'opera di San Francisco. Vorrei presentarvi adesso un ospite che in questi giorni si trova in scena a Palermo col capolavoro di Verdi al teatro Massimo ed è la bellissima e talentuosa Jessica Nuccio. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Jessica Nuccio interprete di Violetta ma dal Turandò alla Bohème all'Elisir d'Amore raccontaci un po' qual è stato il tuo debutto nell'opera lirica. Allora, il debutto avviene nel 2011 con la traviata, la Fenice di Venezia, grazie a un concorso che feci, l'ultimo che feci di tanti, il Marcello Giordani. Lì, tra i tanti, mi sentì il maestro Fortunato Ortombina che è il direttore artistico della Fenice di Venezia e mi disse vieni a cantare. Io pensai sicuramente è un ruolo minimo. Lui mi disse la traviata e io dissi no, la traviata no e lui mi disse non ti preoccupare, sei pronta e da lì iniziò la mia carriera. Abbiamo visto che hai calcato le scene magnificamente, questa performance, questa produzione del Teatro Massimo diretta da Mario Pontigia e dal maestro Giacomo Sagripanti in una versione Liberty e con il profumo che viene diffuso in teatro. Ma tu sei palermitana, diciamolo al nostro pubblico. Jessica Nuccio è una ragazza palermitana, verace, che ancora ha le sue tradizioni, le sue radici ben salde e per la quale avere calcato le scene di un Teatro Massimo è stata una vera emozione che ha trasmesso a tutto il pubblico. Sì, assolutamente sì, tra l'altro traviata è uno dei ruoli che ho cantato di più e speravo tanto di poterlo cantare nel mio teatro. sapere che intanto traviata si sa, la conoscono tutti e sapere di poter cantare un'opera così conosciuta con un pubblico che in realtà mi ama e mi conosce per come sono, non tanto per il soprano ma quanto per la persona, mi ha fatto tantissimo piacere e mi crea, perché ancora abbiamo due recite da fare, grandissima emozione. quindi tu canti da che età? Allora io canto, cioè la carriera inizia nel 2011 ma in realtà canto da quando avevo otto anni. Come fa una ragazza a capire, non è una cosa facile, non è da tutti i bambini capire voglio fare la cantante lirica? No, in realtà è giusta la domanda. Io cantavo, avevo l'impostazione lirica, quindi facevo ooooh e mia mamma pensava che io urlassi in realtà. Poi una signora che conosceva la mia famiglia disse a mia mamma, Mariella, ma tua figlia canta lirica. Mia madre disse, lirica, ma io non sapevo che Jessica potesse cantare lirica e da lì iniziò poi tutto quello che era il mio percorso di studi. Verso quale opera o verso quale compositore ti senti più incline? Allora Verdi, quello che ho cantato di più è sicuramente Verdi ti insegna gli accenti, il fraseggio, la parola. Sono molto vicina a quello che è il bel canto, quindi Donizetti riesco a cantarlo bene, Bellini, anche Puccini. Quindi diciamo che sono, ho una voce molto duttile, quindi riesco a cantare diversi ruoli, sempre con la mia voce, cercando di non forzare, cercando di mantenere sempre i miei filati, i miei pianissimo, insomma, cerco di tenere la mia voce e di affrontare i ruoli come dovrei affrontarli. E con quale cantante contemporaneo, quale genere di musica contemporanea sei più attratta, la quale sei più attratta? Allora, il mio amore è Cocciante, Baglioni, Gino Paoli, Vanoni, Mina, Mina, sì. Penso che tu canti Mina benissimo. No, in effetti io, prima di iniziare la carriera, cantavo nei matrimoni, avevo un gruppo di sole donne. Ah, ecco, bellissimo. Ed io ero il principale di questo gruppo. Le riuniamo, le invitiamo a status donne. Sì, 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 sarebbe bellissimo. La tua esibizione è più emozionante? Quella su questo palcoscenico, che è la mia casa, e quella, la prima volta che ho cantato in teatro, Traviata, è stato sempre il mio debutto. Cosa significa cantare nel teatro della propria città e poi il teatro massimo? È un punto di arrivo o è un punto di inizio? In realtà è un sogno che si avvera. Non è un punto di arrivo, è un punto di inizio e soprattutto in questo caso sentirsi così coccolata, ti rendi conto che ce la puoi fare, che i sacrifici e le cose che hai portato avanti fino adesso sono quelle giuste e che non devi mollare, devi andare avanti. Qual è la giornata tipo di una cantante lirica? Ricordiamo che Jessica Nuccio è sposata da appena un anno con un suo collega, il cantante lirico Simone Piazzolla, ma hanno un bambino di quattro anni e che mi diceva che stanotte non ha potuto dormire, infatti è arrivata con leggermente ritardo perché ha fatto la notte al suo bambino. Sì, in realtà io sono un soprano atipico, vivo più il mio essere mamma che l'essere cantante, cioè ritaglio la giornata alle due o tre orette per lo studio, per il ripasso, mi vedo col maestro spartitista o rimango a casa a studiare col mio tablet. Ma tu urli a tuo figlio? Sì! Secondo me dia, no mamma ti prego! No mi dice, mi fanno male le orecchie quando gli urlo. Quindi coniugare carriera e famiglia è abbastanza semplice da come dici? No, non è semplice, però nel mio caso poi mio marito è sempre dall'altra parte del mondo, quindi io da una parte e lui dall'altra. In questi giorni adesso siete di nuovo in scena? Adesso siamo in scena, sì sì sì. Perché la parte che era di Giorgio Germò e di Leonucci adesso è interpretata da Simone Piazzolla. Giustissimo, giustissimo. Siamo insieme questi 20 giorni, poi saremo insieme penso il prossimo anno, a marzo. Comunque non è facile, però non è impossibile. Bisogna essere pazienti e avere molto senso della praticità e sapere anche districarsi tra i vari impedimenti o i vari accorgimenti che si possono avere con un bambino piccolo. I tuoi prossimi progetti? I miei prossimi progetti, allora, di nuovo Traviata alla Fenice di Venezia, poi di nuovo Traviata, no, Traviata sì, Traviata. Sempre nella parte di Violetta? Sì, certo. Certo. Traviata a Firenze, a Palazzo Pitti, poi ci sarà la Carmen al San Carlo di Napoli e Rigoletto all'Arena di Verona, che è un altro debutto che ho sempre sognato e non vedo l'ora. Ecco, questo noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Ma vogliamo adesso farti un altro tipo di domanda. Vediamo che oggi i giovani sono molto lontani dal teatro, dall'opera, eppure magari ci possono essere sicuramente tanti talenti nascosti. Cosa consiglieresti ai ragazzi per avvicinarsi al teatro e all'opera? Più che ai ragazzi consiglierei alle istituzioni di avvicinarsi all'opera, perché è difficile che un ragazzo si possa avvicinare senza avere uno stimolo, non conoscendo. Però è più facile se si facesse un discorso di studio, già a scuola, dell'opera, dell'arte in generale. Non intendo solo l'opera, ci possono essere tante altre, però purtroppo le prime cose che sono state discriminate sono state appunto la musica, l'educazione artistica. Tu quindi hai iniziato a studiare quando eri piccolissima. La tua famiglia come ti ha supportato? Eh, mi ha sopportato perché cantare in casa non è facile. Poi ho studiato tanto, ho anche lavorato per aiutare la mia famiglia a sostenermi negli studi, che ovviamente io vengo da una famiglia semplice, non era facile per loro, sono l'ultima di cinque figli. Ma qualcuno in famiglia che avesse già questo dono della voce? Il mio padre ha sempre avuto il vocione, infatti quando parlo lui, lui lo sentiamo da fuori alla porta di casa. Ecco, anche mio padre. Eh, però, no, nessuno, nessuno, solo io. Ma se noi adesso ti chiedessimo di farci una piccolissima, piccolissima. Certo. Sempre libera. Sempre libero di giro, polleggiare di gioia in gioia, vo' che scorri viver mio, dei pensieri di piacere. Sei, guarda, da pelle d'occa, mi sono veramente emozionata. Ma prima di salutarci, adesso c'è l'angolo secondo e pruno, il nostro angolo dedicato alla prosa. Ci vediamo tra cinque minuti, più o meno. A dopo. La prima rappresentazione fu un fiasco terribile. Il teatro La Fenice di Venezia venne giù dai fischi, chi lo sa. Fu per il cast di basso profilo o per aver sollevato un tema scabbroso per l'epoca. Il pubblico era abituato a sentire parlare di drammi, di grassi re morti da secoli, ma mai si sarebbe aspettato di vedere in scena una vicenda del vissuto dei giorni loro, dove un figlio dell'alta borghesia si innamora di un amore osteggiato di una donna perduta, una meretrice. Ma che colpa ne aveva Francesco Maria Piave? Il suo libretto non era originale, ma era addirittura tratto dalla signora delle camele di Alessandro Diuman, figlio. Eppure Parigi era ancora molto lontana da Venezia. E il povero Peppino ne dovette fare di bile, visto che anche nei teatri di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e Roma, l'opera per sfuggire alla censura dovette essere spostata fino anche nell'ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo. Ma quando l'anno successivo, al Teatro San Benedetto, venne ripresa e rielaborata, soprattutto con interpreti più validi e diretta dallo stesso Verdi, finalmente riscosse il meritato successo. Da quel momento, quell'opera, stroncata alla sua prima il 6 marzo del 1853, è la più rappresentata e non vi è giorno all'anno in cui, almeno in un teatro al mondo, si canti Amami Alfredo. E ben ritrovati in studio. Noi iniziamo ancora con Jessica Nuccio, la nostra interprete di Violetta della Traviata di Giuseppe Verdi, per ora in scena al Teatro Massimo. Eppure volevo ancora chiederti, perché alcune critiche che ti sono state rivolte? Perché volevo appunto parlarne con te. Violetta è un personaggio abbastanza particolare e complesso. E ci sono ovviamente anche delle decisioni da parte del regista quando c'è un'opera teatrale. E alcuni hanno detto che eri poco focosa, poco passionale. Non mi è sembrato perché ero presente alla prima. Allora, ti rispondo, è giusto che tu mi faccia questa domanda e l'apprezzo, grazie. Ovviamente Violetta ha un suo carattere. Però nel momento in cui noi entriamo in scena, siamo degli attori, delle attrici. Si dice recitar cantando. Ci atteniamo a quello che il regista pensa della Violetta, in quel caso stiamo parlando di Traviata. Lui nel primo atto pensava a una Violetta poco aperta, più concentrata, più riflessiva, molto più nel pensiero di quello che stava accadendo. Ovviamente mi sono tenuta al suo pensiero. è facile venire in teatro e dire io faccio questo, ma non è rispettoso per chi sta lavorando, secondo me. Poi non so, magari tra dieci anni avrò la mia Traviata, la sarò la mia Violetta e non vorrò cambiare per nessuna cosa. Cioè la tua Violetta ha notato molta mediterraneità, e l'ho scritto anche. E' ovvio che noi abbiamo visto una Traviata in stile Liberty, quindi non una Traviata classicamente romantica. Quindi forse l'idea appunto di Mario Pontigia, secondo me, è quella di avere fatto una Traviata più elegante. Quindi anche il personaggio di Violetta corrisponde a questo suo stile. Sì, esattamente. Poi è ovvio nel secondo atto la passione diventa più forte, più alta, e quindi tu hai avuto la possibilità di esprimerti. Sì, in effetti c'è questo primo atto di cui abbiamo già parlato. Il secondo atto invece si vede un altro tipo di donna. Una donna, come si può dire, palermitana austera, che con due frasi dice al padre di Alfredo Se ti conviene, questa è casa mia, altrimenti puoi anche andare via. E poi si vede invece una Violetta che riflette su quello che dice il padre, che si rende conto di quello che non ha avuto, e per quello si sacrifica. Mentre nel terzo atto, c'è la parte della lettera, e la parte in cui finisce delle tardi. Normalmente si fa un decammato impostato su una nota, tipo Teneste la promessa! In questo caso no, è stato completamente recitato. Quindi non ha rispettato, diciamo, il canovaccio. No, perché voleva più un personaggio stanco. Sì, è questo, da stile Liberty, da... Stanco, sì. Sì. Infatti l'è tardi, che normalmente si fa, è tardi! In questo caso io lo farò, è tardi. Non ce la faccio più, sostanzialmente. Quindi più recitato che cantato. Ma io penso che i commenti, forse di qualcuno, saranno stati così, forse poco positivi, però dobbiamo dire che tutta la critica è stata abbastanza positiva, sia per la performance, sia perché una produzione del Teatro Massimo, che ricordiamo, andrà in tournée in Giappone. Tu non andrà in Giappone. Questo mi dispiace tanto, ma ho già un altro impegno, non posso andare. Mi piacerebbe perché ancora in Giappone non sono andata. Ecco. Certo, come carriera, come tipo di professione, è un bellissimo lavoro, perché vai in giro per il mondo. Sì, è bello. Io poi sono un tipo da scarpe da tennis e zainetto, quando non si canta si va in giro. Invece ci sono altri colleghi, tipo mio marito, che anche quando non canto stanno a casa, a bere il tè, stanno molto concentrati, invece no, sono discola. Ecco. Quindi, a parte, quindi oltre la tua professione, quali passioni hai? Allora, mi piace tantissimo il decoupage. Ah, ecco. Non posso farlo perché non sono mai a casa. Mi piace tantissimo colorare. In effetti con mio figlio coloriamo sempre. E poi mi piace andare in giro per le città e innanzitutto mangiare, ma si vede, i prodotti tipici dei luoghi dove siamo. In effetti, dico, se mangi prodotti della terra, dove vai, mangi benissimo. È giusto. E poi mi piace vedere, vedere i monumenti, vedere le parti, forse anche meno turistiche. Di solito cerco qualcuno del teatro, magari con cui faccio amicizia, o mi fa simpettia, gli dico, per favore, e mi fai vedere i posti che non sono turistici. Bellissimo, infatti. Quale personaggio ti piacerebbe proprio interpretare? Mi piacerebbe tanto cantare la sonnambula. La sonnambula. Perché? Perché intanto è bel canto e poi perché è una delle prime aria, quando ero bambino, che cantavo e mi è rimasta un po' nel cuore. Come canti la nina nanna a tuo figlio? Canto una canzone siciliana che fa E la pampina di la liva di la liva la pampina Questa qua canta. Ecco, secondo me tuo figlio fa finta di non vuole addormentarsi per ascoltarti e cantare. Il mio bambino viene a teatro e ci segue tutta l'opera. Infatti la gente rimane scioccata, soprattutto quando era più piccolo, due anni, così. E sempre il mio bambino ha un... Come si chiama il tuo bambino? Diego. Eh, salutalo Diego. Ciao amore mio! E sempre lui, quando noi cantiamo e stiamo a casa, studiamo, me lo porto da pressa. So che devo portare indietro il passeggino perché dopo un po' si rilascia talmente tanto che si addormenta. Ecco, bellissimo. Quindi dai, li fai da ninna nanna. E la nostra puntata è al termine. Volevo omaggiare a Jessica Anuccio da parte mia e della redazione questi fiori, il simbolo della cordiale amicizia, per esserci venuti a trovare. Vi ringrazio, il piacere è stato il mio e spero di poter ritornare magari il prossimo anno e raccontare altre cose di me. E noi saremo felici di ospitarti. Grazie. Volevo ancora ringraziare i telespettatori per averci seguito, di visitare il sito di ctsnotizie.it, la nostra pagina Facebook, e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. 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 Grazie.